Chi non ha mai giocato da piccolo a saltare le righe del marciapiede? Io Cosa? Io non ce l'ho mai giocato Com'è possibile? Chiunque l'ha fatto da bambino, dai, è una cosa che si fa quando ti annoi camminando Aspetta, ti spiego, io da bambino avevo cose molto più importanti da fare Ok Io avevo un circolo di risse clandestini tra bambini e quindi ero impegnato a gestire quello e non giocavo a saltare le righe dei marciapiedi Non è normale, lo sai? Non è normalissimo Non è normale Allora, qualunque bambino ha un circolo di risse clandestini No Non è normale, soprattutto da una bambina Ancora meglio, perché così capita, fermavi là, la tua potenza tra i bambini maschi di tutta la piazzetta Povera FioriNiki E ragazzi, come va? Io sono FioriNiki E io sono Stef, e questo giocamato è HappyPants E oggi siamo qui con un nuovo giochino per cellulare in cui sarà difficile anche camminare, ovvero una cosa semplicissima, per noi sarà complicatissima Esattamente, io non vorrei vantarmi, ma stiamo trovando un sacco di giochi per telefono davvero carinissimi A me piacciono, bisogna vedere se piacciono i consolini, perché poi sono loro che decidono, scriveteci nei commenti Allora, praticamente, io non ho idea di come funziona, non ho provato neanche una partita, questa è la prima volta in assoluto che provo a camminare nel marciapiede Credo, ok Ti è andato troppo in spaccato, ti sei spaccato Devo tenere premuto e mollare Ok Ok Per questo momento Allora, non hai capito che è difficilissimo La mia unica debolezza, ovvero la spaccata eccessiva Si può giocare anche di così? Eh, ma allora è più bello Eh, se lo dici tu Si È più bello Dai, sì, si vedi più Checkpoint Ok Non si sa come lo prende Però ok E vabbè, consegna speciale Allora, 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 vai, ci riprovo, quindi riparto da qua E vabbè Ma che Sono in mezzo alle righe ormai E beh, sto sempre in più Bravo Bravo Ok 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 Guarda Hai preso ritmo Sembra il trailer di Michael Jackson Non la capirà nessuno Però davvero sembrava quello Sembrava thriller Esattamente Tu hai detto il trailer E quindi non ti ho capito neanche io Poi ci sono arrivata Thriller il video Perché volevo dire La canzone Poi ho pensato a thriller E mi è uscito trailer D'adammo di film Lo sai che ho problemi Ok, ok Ceri però Vuoi provare? Cosa devo fare? Devi soltanto tenere premuto e mollare Dai, paura Eccola qua Prima morte per Ferri Ricky Seconda Terza Come lo devo gestire? Devi mollare Cioè, sono riuscito a prendere Quello che avevo Perché non riesco a capire Quanta potenza Allora In inizio video Te l'ho detto Che avevo un circolo Di risa e clandestine Troppo forte Per questi giochi Non riesco Se me lo spieghi Quanta potenza devo mettere Sì Decisamente Passati da gallina Non puoi andare avanti A passati da gallina Premi un po' Questo è quello Che dici tu Io lo posso fare Guarda Oh sì Sì ho visto Aspetta Prego premi Grazie Oh finalmente Stai capendo Finalmente No dai impossibile È ingiusto Ti ha scritto Questo gioco è ingiusto La vita è ingiusta Perché devo fare questo? Io volevo fare solo un video su YouTube Non volevo saltare righe di marcia a piedi Allora ce la faccio Vai Ok Rimaniamo qua fino alle 21 È perché non ho fatto il tutorial E sono le 17 e 40 Quindi non ho capito Ah certo È colpa del tutorial sicuramente Dai Guarda Non ce la faccio Adesso sapete perché certe volte Ferinichi non gioca a certi giochi No è perché mi fanno venire il nervoso Anche a me Però qualcuno si deve Ma tu sei più calmo Io non riesco proprio a tenere la pazienza Allora andiamo Tini Svini Pindistini Mi piace il kiwi di mattina La macchina però ti ha distratto È stata colpa della macchina Assolutamente Io te lo dico che è stata colpa della macchina In realtà stavo pensando più alle parole della canzone Che a fare bene i passi Però guarda Guarda che falcata Da cavan Che da Qualcosa È il nuovo record Checkpoint Mi sono spaccato in due Mi ha fatto il checkpoint L'importante è quello Ora si riparte da qua Lo sai che se arriviamo abbastanza in fondo C'è tipo la lava Ma davvero Che ci facciamo nella lava Devi saltare la lava Invece che le righe nel marciapiede Così sei più motivato Non le voglio saltare Grazie Lo so Ok Bravo Di nuovo checkpoint TNT Non voglio cliccarla Salta Un po' la vorrei premere però Vai Tanto siamo vicini al checkpoint Ok Pensavo all'esplosione Invece siamo proprio volati via Esatto Pensavo anche io all'esplosione Dai tutti siamo qua attaccati Ci stavo a provare Esatto E adesso la prendo anche senza volere Esatto Di spaccata Così Ok Ok Andiamo al prossimo checkpoint Andiamo Beppe Andiamo a Berlino Non c'entrava nulla Dai No dai Cavolo Stavi andando benissimo E adesso chi la rifà con la parte Ta Bravo Ta Bravissimo Bravissimo Salta qua Bravo Ok 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 Ah Sono difficilissimi adesso Ma dai C'eri 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 Il checkpoint è ancora più lontano Sto muovendo tutto Stai facendo Venire attacchi i filetti Perché ce l'ho il contrario Se vuoi ci prova Dai Facci vedere Facci vedere Il passo della gazzella Ci faccio vedere Sì Secondo me cinque volte Solo per superare questo Uno Le contiamo Le contiamo Le contiamo tutti insieme Due Io ho detto cinque volte Tre Volevo andare di spaccata gigante Ok Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Brava Peccato C'ero però Sì Ok Ma perché non si muove la seconda gamba Perché fai il passetto troppo piccolo E adesso è troppo grande Io non li sopporto sti giochi Mi fanno schifo L'hai voluto fare Tu ma te lo fai da solo Ma guarda che è bellino Non risultare il gioco Fa schifo Se sei tu Adesso gli scrivo Fa schifo Perché non va bene Per chi ha le dita forti Smetti di fare il passetto gigante lì La fai leggermente più piccola E fosse Capito Forse è semplice Siccome lo sto decidendo io Come fare i passi Eh sì Lo decidi tu Ok Bella sta spaccata Aspetta il passettino Alza la gamba Devi alzare È ridicolo Cioè è ridicolo questa persona È una persona ridicola Io te lo dico Cioè non muoveva il secondo piede È sicuramente colpa sua È colpa sua Che fa schifo Cioè fa schifo Vediamo Moneybags E non ce l'ho Non disponibile con la macchina dei premi Sì Anche In modo un po' disastroso Ma l'hai preso 80 metri Sì vabbè No no Voi siete pazzi Però Ti è piaciuta la mia partita Hai visto come stava andando bene Sì sì Bravissimo Infatti guarda Vedi 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 Ci siamo Ci siamo Sì sei bravissimo Guarda Ormai non ti ferma nessuno Non riesci più a fermarti Sembra che sto camminando proprio Cammini nell'aria Voli Cioè non è possibile Brava Lo stavo per dire io Sembra che volo ormai Da quanto cammino In modo fluido Ed eleggiante Non esiste come parola Muoviti Non ti distratre Il dizionario Allora Tacchete 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 Ok Vai Checkpoint Bravo E adesso che si falli No Ti investe Oh mio dio Più veloce Come vuol dire Che vai più veloce L'hai visto Hai preso tipo la bevanda Consegna speciale Vai vediamo cosa ci arriva adesso Più 120 Dai va bene Va bene Mi sto casando Mi sto casando Consegna pronta Vuoi impostare un promemoria No Grazie Mi svegli di notte L'ho già detto La scorsa volta Esatto Non ci piacciono I promemoria Aia E ce la fa Signori Il campione Nel mondo È arrivato A 140 metri Vai vai Andiamo avanti Te l'ho detto Quando faccio la partita Non devo sprecare Perché vedi Vedi che sono infogato Vedi Sì si E siamo finalmente E continuiamo a farcela Vorrei esultare Vorrei esultare Invece ogni volta che esulto Muoio Ok Ma che succede Sono arrivato a 220 metri E c'è un tizio Aia Hai provato a cliccarci Su missione Prima vorrei Prima vorrei arrivarci Adesso è lì Però attaccato E dico Ta Ta E adesso Ok Cammina per 150 metri Ricompensa 10 metri Difficilissimo Andiamo Vabbè Fatto Bravo Steph Dai che facciamo un altro checkpoint Dai che lo facciamo un nuovo Sì Yes Ottimo E quindi ho fatto anche la missione no? E suppongo di sì Non lo so Ok Aspetta che continuo Allora Questa è una cosa Che non andrebbe vista Non è 38 giorni Che non facciamo gli allenamenti No Era 3 ore 3 ore e 8 minuti 80 secondi 8 minuti Sì Esatto Sì Vai avanti Dimmi tu Comunque Se devono succedere ste cose Dimmi tu se mi devi far perdere Più che altro Era uno di quei momenti divini Mancano ancora 100 metri Cammina Cammina Ah ma lui vuole 150 metri di fila? No Ti li sta contando lo stesso Ah ok E ne hai fatto 50 Ok Ok Devi farli altri 100 Va bene Va bene Io li faccio Vedi che se faccio un'attività fisica Eh certo E che l'app Ha sbagliato È l'app che non capisce Esattamente Non ci credo Che cosa? Voglio gli screenshot Su Instagram Su Instagram Se mi sparate punteggi troppo alti Io voglio lo screenshot Facciamo così Come prova Ti voglio fare un gioco Un gioco Ok Se piace molto l'episodio E proviamo a fare il secondo video Ok Mettiamo le tre persone Che hanno fatto un punteggio più alto Che ci hanno taggato su Instagram Ci sta Ci sta Per taggarci basta che mettete una foto E taggate 2play S1 console Esatto Scritto così tutto Taggato Taggate Non taggate le fanpage Esatto È scritto così semplice Quindi se altre cose in mezzo Non siamo noi Esattamente Giusto per specificare Eh c'ero quasi C'ero quasi pubblicità Bello Un cannone E sparo Bello Questo lo portiamo domani Oh bellissimo Non vedo l'ora Lo registriamo alle 7 del mattino E Steph va E passano le ore Salta le righe Del marciapiede E fa 200 metri Ecco il check point Che arriva Vieni Andiamo via Lo abbandoniamo E lo lasciamo perdere Ce ne andiamo io e te In una casa lontanissima Da questo essere È vero che non lo vuoi Guarda Hai preso il cane Guarda La vero che non lo vuoi Adesso gli tiro qualcosa La vero che non lo vuoi Aspetta Ho paura di te Lascia la Io sono morto Eh Alla casella Prima del check point Dei 200 Ok C'è di 300 Scusami Mi dispiace Quindi Sai di chi è colpa? Del cane Perché hai preso il cane E mi ha dato delle energie negative Perché ti odia Perché ha fame No non ha fame Così a casa Eccolo Check point Va dritto Ignora anche le missioni Tutto dritto Tutto dritto Vuole due check point di fila 320 Che nessun consolino Saprà fare A parte tutti A parte tutti Dimmi che me l'hai dato Me l'ha dato? Sì Dai ci sta Ci sta E va ancora Non vuole fermarsi col video Per quanto vuoi continuare ancora Forse ho finito? Forse ho finito Non vuole fare l'altro signori Vuole continuare Vuole continuare Vuole fare il suo nuovo record Vuole fare il 340 Steph E li fa Ok Basta Bravissimo 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 Chiunque la sua memoria Chiunque la sua memoria Sono dieci parole Cioè dieci parole Ma no mi la so benissimo Perché la sente tutti Ma sembrarebbe E poi Comunque Fateci sapere se il video vi è piaciuto Likes Commenti Sondaggino Blablabla Vediamo appunto Se fare Ricordatevi di mandarci i punteggi Ricordatevi di mandarci i punteggi Se avete fatto più di mille Vi bandiamo Se avete fatto più di mille Elimineremo gli screenshot Elimineremo gli screenshot Non è vero Non è vero E ci fermiamo così Bene che ci piace così Se ci piace Staci un bel like E questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao